comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano da casa con noi attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco, per i Vescovi e per tutti i Sacerdoti e i Diaconi. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria e dell'Annunzio, per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la Tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E vengi ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo regi e degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, il Battesimo di Gesù al Giordano. Pater nostro, qui esi in cielo, santificetum nomen Tum, advenia regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo e in terra. Pater nostro, in quotidiano, da nobis sodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo Nome di Giuseppe e Maria. Secondo mistero, il miracolo alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, l'ho dato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci l'attentazione, ma liberaci dal male, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Come era nel principio e nell'ora della nostra morte, Amen. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Quarto mistero è la trasfigurazione di Gesù al tabor. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Io saluto Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Amen. Io saluto Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Amen. Io saluto Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Amen. Io saluto Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Io saluto Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, il Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, il Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, il Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, il Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, il Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve, regina, mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Un artico nofire, che vergine da noi, che vale per noi, prega per noi, finanziare jurisprudenziamo la nostra morte. A te clamiamo phenomena di Gesù, Gesù le spilighi leve. A te suspiriamo Terroriss cardi dimenti subprudenzierti in pursuiti altacrima rum incorporate. E io ergo Africo,erv beflu Mus pe buona di Dio, prega per noi, prega per noi,emsettihiUD, bottomati cura di Bente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Vergine delle Vergine, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergine, regina di tutti i santi, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, regina per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eterno riposo, dono loro, Signore, e splenda di essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Supplica alla Beata Vergine Maria di Loreto di Papa Francesco. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il Tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il Tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen. Sotto la Tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare i suoi che di noi che siamo nella prova, ma liberarci da ogni vericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione di Maria Santissima, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, sui vostri cari, in particolare le persone malate e più fragili. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave Maria. 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 Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.